Onorevole, al netto della polemica politica, che cosa le fa pensare che ci possa essere ONG che fanno qualcosa di oscuro nel mar Mediterraneo per portare i migranti dalla vostra parte? Io credo che la polemica politica sia scandalosa perché qui abbiamo due rapporti Frontex che accusano le ONG di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti. In uno dei rapporti Frontex c'è addirittura scritto che si sono usate navi delle ONG per trasportare criminali. Questo è un dato preoccupante e per questo noi vogliamo capire chi finanzia queste ONG, perché ricordiamoci che Mare Nostrum ci costava decine di milioni di euro, queste sono imbarcazioni private che si muovono in tutto il Mediterraneo e se ci sia una regia su questo modo di trasportare i migranti dalle acque libiche direttamente sulle nostre coste e poi queste navi ritornano nelle acque maltesi. Noi siamo molto preoccupati e quando io sento Saviano o il Partito Democratico scandalizzarsi per le mie parole, penso ad una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia e infatti poi ci siamo ritrovati con mafia capitale. Qui c'è la procura siciliana e Frontex che accusano le ONG. Noi andremo fino in fondo e chiederemo a Minnitti, il ministro dell'interno, di sapere tutto su questa vicenda, perché non può assolutamente essere lasciata così. Questo bonismo che io vedo in giro è l'ipocrisia che ha nascosto per anni i miliardi di euro che si facevano e che si guadagnavano sulla pelle dei migranti. Posso chiedere che cosa succederà dopo l'elezione del caso in cui non avete una maggioranza in un periodo di governare stabilmente perché non ci sono i numeri nelle due Camere? Ci sarà questo accordo di cui si parla tanto sui giornali con il PD? Secondo la Costituzione questo lo decide il Presidente della Repubblica. È chiaro che noi chiederemo un incarico di governo, ci presenteremo alle Camere, presenteremo le nostre proposte, reddito di cittadinanza, abolizione d'equitalia, serie legge anticorruzione per abbassare le tasse perché possiamo recuperare fino a 15 miliardi di euro all'anno e vedremo chi non ci poterà la fiducia. Io penso che avremo di fronte un Parlamento diverso da quello di oggi in cui noi saremo la prima forza politica del Paese. Speriamo di superare il 40% così questo problema non ce lo faremo neanche. Le chiedo anche un giudizio sulla manovra economica. La manovra economica è una manovra che tira a campare fino a fine anno quando poi il governo Gentiloni dovrà fare una manovra a lacrime e sangue. Ieri c'è stato il dato di Fitch che ha derubricato e declassato ulteriormente l'Italia dal punto di vista della resa economica, dal punto di vista della valutazione. Ricordiamoci che solo durante il governo Renzi si sono fatti 120 miliardi di euro di debito pubblico in più. È inutile che si meraviglia Padoan perché viene declassato. Quello che dico io è che il Movimento 5 Stelle in questi anni sta governando 37 comuni, in ogni comune abbiamo ridotto il debito. Loro invece lo hanno aumentato nello Stato centrale e nei comuni. Quindi noi siamo gli unici in questo momento che hanno la possibilità di poter ridurre il debito tagliando le spese improduttive e lo possiamo fare perché abbiamo le mani libere, non dobbiamo comprare aerei di Stato, non dobbiamo fare ponti sullo stretto, non dobbiamo fare opere inutili, ma possiamo tagliare con una serie spending review il debito, fare investimenti e rilanciare il Paese. Quindi quando Fitch parla dei populismi, il vero populismo è stato quello di Matteo Renzi in questi anni, quello del PD, che diceva di voler aiutare l'Italia e poi spendeva e spandeva i soldi degli italiani. Lei è qui per aiutare un'azienda del Casertano che produce mozzarella. Come la aiutate, vedi 5 Stelle? Noi abbiamo un progetto ormai da quattro anni che si chiama microcredito5stelle.it. Tagliamo gli stipendi parlamentari e facciamo partire nuove imprese. Anche questo caseificio parte e si espande grazie ai 20 milioni di euro di stipendi che abbiamo tagliato. Molti che ci ascoltano magari non hanno mai sentito parlare della regina della dieta mediterranea o dell'oro bianco, che è la mozzarella di bufala campana, è un'eccellenza in tutto il mondo. La mozzarella di bufala campana la conoscono, ma è definita appunto l'oro bianco, la regina della dieta mediterranea. Questo caseificio lo produce ed è la testimonianza che dall'opposizione noi con i nostri soldi stiamo investendo in agroalimentare, in eccellenze in made in Italy, in economia locale. Quando andremo al governo vogliamo farlo con una banca pubblica per gli investimenti. Ti ho una domanda, questi impregnitori, anche il nostro elettore, o non lo conoscete neanche? Non lo conosco neanche, sono venuto a conoscerlo adesso. Adesso e soprattutto tengo a precisare che i soldi dei nostri stipendi non li gestiamo noi, ma li mettiamo su un fondo il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero con parametri di legge li eroga. Quindi non ci può essere nessun conflitto di interessi. Potrebbe manco votarvi questo senso? Magari non ci vota, lo apprezzerei ancora di più, nel senso che sarebbe la testimonianza che non facciamo clientelismo.